27 dicembre 1968 l'Apollo 8 rientra sulla Terra la capsula spaziale ammara nell'oceano pacifico dopo un viaggio di sei giorni durante il quale l'equipaggio, composto da Frank Borman, Bill Anders e James Lovell dopo aver lasciato l'orbita terrestre, circonnaviga per la prima volta la Luna riprendendo per la prima volta la sua faccia oscura